Esistono canzoni che durano nel tempo, che non conoscono distanze, che diventano ricordi, come gli amori, quelli nati fra i banchi di scuola, quelli che raccontano un diario. Alcuni resteranno per sempre fra quelle pagine, altre invece, inconsapevolmente, faranno il giro del mondo. E noi torniamo indietro di vent'anni per rievocare quel periodo e per narrare anche quello che è successo dopo, il successo mondiale, le tournée trionfanti, i grandi pubblici accadezzati da chi? Da lei! Da Laura Pausini! Ciao! E ti accarezzo i tuoi capelli come vent'anni fa. Ciao! 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 Sali tu in me